Sono le 9.20 del 21 febbraio 2024. Allora, parto da qui della cisterna e vado verso questa direzione. Qui è ancora più rialzata e qui c'è una montagna di pietre. Come mai c'è questa masso di pietre? Ci sono pietre e anche reperti archeologici, però qui dovrebbero recintare. Mettere un cartellone, una cartellonistica per indicare la storia di questa zona. A 150 metri ci sono gli X3 terreni e la buona mia nonna. Guardate quante reperti archeologici sono qui. Vedete? E qui qualcuno è venuto pure a scavare. Ecco qui. Chissà cosa volevano trovare. Eppure un'area archeologica abbandonata all'incuore. Guardate? Tutte pietre e pezzi di reperti archeologici. E prosegue anche qui.